Sarò molto sintetico, Presidente, grazie. Questo ordine del giorno vuole semplicemente ribadire l'impegno che questa amministrazione ha nel voler rispettare la legge. È previsto che, come già stato detto più volte oggi, le partite non riconciliate trovino riconciliazione nell'esercizio corrente in cui sono state rilevate. È un impegno che va preso entro il 31-12 di quest'anno per la prima volta, visto che ricordiamo i discorsi già fatti, relativi agli anni 2012 fino al 2015. Quindi noi con questo ordine del giorno impegniamo ovviamente a un'opera di vigilanza, di controllo, di sostegno e impulso della Sindaca e della Giunta nei confronti degli uffici che dovranno procedere a formalizzare la riconciliazione entro il 31-12-2017. Grazie.